offner club 40 riarrangiata a basso probabilmente l'ultima volta che fa finta di essere un basso sentiamo un attimo è anche molto difficile suonare perché i tasti sono piccoli e le corde sono vecchie un attimo chissà come lo suonava non lo so e mi sa che questa è la fine della sua carriera da basso perché poi la rimettiamo a fare la chitarra l'ultimo mi che non è un mi perché accordata sotto